Stiamo ancora intrattenendo qualche minuto per dare la possibilità a tutti gli iscritti di accedere alla piattaforma e quindi essere collegati con noi. Vi ricordo ancora che all'ingresso nella piattaforma vi abbiamo tolto l'audio e in questo modo qui alla fine dell'incontro per poter fare le domande utilizzerete la chat. Quando Don Davide, che anche questa sera sarà con noi, gli diamo il bentornato e bentrovato, inizierà a parlare, chiediamo di spegnere i vostri video. In questo modo qui non si appesantisce la piattaforma e può essere la visione e l'ascolto più fluido per tutti. Buonasera a tutti, ciao Don Davide, bentrovati. Buonasera Don Andrea, ciao. Iniziamo? Iniziamo il nostro terzo incontro di questo corso di formazione permanente per catechisti che ha come tema il Kerigma in Evangelii Gaudium. Siamo al nostro terzo appuntamento e dopo il primo in cui abbiamo fatto un'introduzione generale a tutto il corso, abbiamo detto che nei primi tre incontri avremmo approfondito il Kerigma trinitario. Papa Francesco in Evangelii Gaudium dice che il Kerigma è sempre trinitario e quindi la volta scorsa con Don Davide abbiamo approfondito il Kerigma in Dio Padre, questa sera approfondiremo il Kerigma di Gesù Cristo Signore. Ecco, ma prima di entrare nel pieno dell'incontro, ecco, ci introduciamo, ci mettiamo in atteggiamento di ascolto con la preghiera. Ecco, come al solito, leggerò io un salmo e voi partecipate con la lettura silenziosa. E allora iniziamo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Se mettiamo la slide con il salmo. Ecco, perché le genti sono in tumulto e i popoli cospirano in vano, insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e il suo consacrato. Spezziamo le loro catene, gettiamo via da noi il loro gioco. Ride colui che sta nei cieli, il Signore si fa beffe di loro. Egli parla nella sua ira, li spaventa con la sua collera. Io stesso ho stabilito il mio sovrano su Sion, mia santa montagna. Voglio annunziare il decreto del Signore. Egli mi ha detto, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedimi, e ti darò in edelità le genti e in tuo dominio le terre più lontane. Le spezzerai coscettro di ferro, come vaso di argilla le frantumerai. E ora, siate saggi o sovrani, lasciatevi correggere, o giudici della terra. Servite il Signore con timore e rallegratevi con tremore. Imparate la disciplina perché non si adiri, e voi perdiate la via. In un attimo divampa la sua ira, beato chi in lui si rifugia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E allora diamo la parola a Don Davide, buon ascolto. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, il tema di oggi, come ha introdotto la sua Rosaria, è il Kerigma di Gesù Cristo Signore. Ecco, questo è un tema particolarmente difficile da parte mia per eccesso, no? Per eccesso di materia. Ecco, Papa Francesco che ci ha detto, in questo testo un po' guida, Evangelii Gaudium 164, che il Kerigma è trinitario, subito dopo lo va ad esplicitare in una formulazione cristologica. Ecco, perché l'annuncio del Kerigma fondamentalmente è l'annuncio di Gesù Cristo. Ecco, se noi andiamo adesso a leggere questa formulazione di Papa Francesco, dice così, Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo a tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti. Ecco, vediamo in questa formulazione, ecco, uno stile fresco, molto intimo, personale, dialogico, no? Vicina all'uomo di oggi, un linguaggio anche proprio di dialogo interpersonale, no? Eppure in questa formulazione si intravede, nello sfondo, ecco, tutto quello che è l'annuncio, tutto quello che è l'annuncio ecclesiale apostolico ed ecclesiale del Kerigma di Gesù Cristo in tutti i secoli. Forse il testo che gli è più vicino, con cui risuona di più questa formulazione di Papa Francesco, è il testo di 2 Corinthians 5, 14, 15, 17, che è qui proiettato, dove dice L'amore del Cristo ci possiede, caritas Christi, urget nos, non ci spinge. E noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Lei è morto per tutti perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Se uno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, le sono nate di nuove. Che cosa accomuna questi due testi, no? In primo luogo c'è questa prima parola, l'apertura di Papa Francesco, Gesù Cristo ti amano, l'enfasi sull'amore che abbiamo qui anche nel testo di San Paolo. Poi vi è un'allusione alla morte di Cristo che, dice il Papa, ha dato la sua vita per salvarti, no? E alla sua risurrezione quando dice, ma adesso è vivo. Ecco, questo della morte e risurrezione è anche subito affermato da Paolo, che è morto per tutti ed è morto e risorto per loro, poi dice. E poi che questa morte e risurrezione di Gesù è vicina a noi, è significativa, rilevante per la nostra vita. Quindi non solo è vivo, ma è al tuo fianco ogni giorno per illuminarti, rafforzarti e liberarti. E in questo triplice scopo, formulato da Papa Francesco, vediamo come due versanti. Uno è il versante della liberazione dal male, no? Una salvezza che ci porta dal male al bene. Quindi quando uno è nelle tenebre riceve luce, è debole, senza forza riceve forza, no? O un stato di schiavitù da cui veniamo liberati. Ecco, diversi modi in cui viene espressa l'uscita dal male al bene, un cambio di polarità. D'altra parte vi è anche la dinamica della crescita nel bene. Questo è particolarmente chiaro nel rafforzare, no? Si rafforza qualcuno che è vivo, è anche un termine di crescita. Un organismo che cresce si rafforza, a mano che cresce, no? Quindi un passaggio dal bene al meglio. Proprio agganciandoci a queste due polarità dell'opera di Cristo per noi, e dell'annuncio di Gesù nei nostri confronti, vorrei proprio rimensionare l'apertura di questa lettera apostolica di Evangelii Gaudium dove dice così, Evangelii Gaudium 1 «La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù». Ecco, di nuovo, la centralità cristologica di Cristo. «Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato» e poi possiamo in qualche modo vedere anche le conseguenze, le manifestazioni del peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. E d'altra parte, con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. Se nasce e rinasce la gioia, la gioia è qualcosa di positivo, questo ritmo che nasce e rinasce sempre, di nuovo un ritmo di crescita dal bene al meglio. Quindi vi è questa contrapposizione tra la gioia del Vangelo al peccato con tutte le sue conseguenze. Tristezza, vuoto interiore, isolamento. E questa contrapposizione ha come passaggio Gesù Cristo, l'incontro con Gesù, e che è per noi l'incontro col Vangelo, l'annuncio, ecco qui, del Kerigma. Questi due poli, questo del peccato e della gioia del Vangelo, vengono approfonditi poi da Papa Francesco nell'esortazione, questa lettera apostolica. La situazione del peccato è approfondita in maniera molto attuale, nel numero due. Lo leggiamo perché, ecco, vale la pena. Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice e opprimente offerta di consumo, è una tristezza individualista, che scaturisce dal cuore comodo e avaro dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata. Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi, non vi è più spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più la dolce gioia del suo amore, non palpita l'entusiasmo di fare il bene. Ecco, in questa descrizione molto contemporanea, attuale, vediamo come un'attualizzazione di ciò che diceva San Paolo quando parla dell'uomo che vive per sé stesso. Ecco, vive per sé stesso. La situazione del peccato che entra nella vita degli uomini in maniera molto incisiva attraverso le dinamiche qui descritte. Dice, e mette in guardia il Papa anche i credenti che corrono questo rischio, certo e permanente. Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite, scontente, senza vita. Questa non è la scelta di una vita degna e piena, non è il desiderio di Dio per noi, questa non è la vita dello spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto. Ecco, quindi Cristo risorto, con l'annuncio di Gesù Cristo, della sua risurrezione, fa scaturire un'altra vita, non questa vita chiusa in sé stesso, ma una vita, diceva la seconda lettera ai Corinzi, per Cristo. Ecco, poi parla al numero tre di come sia urgente anche per i cristiani oggi rincontrare Cristo, no? Curare questo incontro, questo rapporto con Cristo e a seguire parla della gioia di Gesù, del Signore Gesù, preannunciata nell'Antico Testamento al numero quattro e poi nel numero cinque. Ecco che è qui esposto, la gioia di Cristo nel Nuovo Testamento con una selezione di brani. Dice il Vangelo dove risplende e gloriosa la croce di Cristo, invita con insistenza alla gioia. Bastano alcuni esempi. Rallegrati, è il saluto dell'Angelo a Maria. La visita di Maria a Elisabetta fa sì che Giovanni salti di gioia dal grembo di sua madre. Nel suo canto Maria proclama il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Quando Gesù inizia il suo ministero, Giovanni esclama ora questa mia gioia è piena. Gesù stesso esultò di gioia nello Spirito Santo e il suo messaggio è fonte di gioia. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi, la vostra gioia sia piena. La nostra gioia cristiana scaturisce dalla fonte del suo cuore traboccante. Gli promette ai discepoli voi sarete nella tristezza ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. E insiste, vi vedrò di nuovo il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. In seguito essi, vedendolo risorto, gioirono. Il libro degli Atti degli Apostoli narra che la prima comunità prendevano cibo con letizia, con gioia. Dove i discepoli passavano vi fu grande gioia ed essi in mezzo alla persecuzione erano pieni di gioia. Un eunuco appena battezzato pieno di gioia seguiva la sua strada. Il carceriere fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per aver creduto in Dio. Perché non entrare anche noi in questo fiume di gioia? Ecco, quindi ecco quello che presenta Papa Francesco come frutto questo cambiamento dall'annuncio, l'incontro con Gesù Cristo e con la sua risurrezione. Ecco, è lui il motivo di questa gioia, la fede in lui e che a noi raggiunge tramite il kerigma di Gesù Cristo. Ecco, allora vogliamo chiederci qual è il contenuto il contenuto di questo kerigma. che non va avanti, ecco. Qual è il contenuto del kerigma di Gesù Cristo, Signore? Ecco, allora adesso questa sarà la prima sezione del nostro incontro. Possiamo abbozzare una risposta a questa questione in cinque punti. Il contenuto di questo kerigma è in primo luogo Gesù stesso, Gesù Cristo, Signore, Figlio di Dio. Il secondo punto di questa risposta è il mistero casquale, la morte e risurrezione di Cristo che troveremo nell'annuncio del kerigma. Terzo punto, l'annuncio della conversione e il perdono dei peccati. Quarto punto, compimento delle promesse di Dio. Quinto punto, il dono dello Spirito Santo. Ecco, questi cinque punti, non so se è una lista esaustiva, ma mi sembrano i punti principali che compaiono nei tantissimi annunci del kerigma di Gesù Cristo che troviamo nel Nuovo Testamento e di cui vogliamo avere adesso un assaggio esaminando proprio questi punti nella parola di Dio. Dagli annunci più brevi, o alle allusioni più sintetiche all'annuncio del kerigma di Gesù Cristo a le esposizioni più ricche e articolate. Quindi metterò qui sul lato sinistro delle slide i cinque punti, lasciando evidenziati dei cinque quelli che si ritrovano nel brano in questione, che vorremmo iniziare proprio dal primo annuncio di Gesù, l'annunzazione dell'Angelo Gabriele alla Vergine Maria, di cui abbiamo qui un estratto che sarà letto. L'Angelo le disse «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Colui che nascerà sarà santo e chiamato Figlio di Dio». Ok, quindi abbiamo evidenziato in questa prima slide due punti. Quindi il primo punto è l'annuncio dell'identità di colui che nasce, Gesù, che significa Salvatore, che è un nome e una missione già, e Figlio dell'Altissimo, Figlio di Dio, ecco come si nomi. In centro, ecco vi è questa forte ripresa delle promesse davidiche nel secondo libro di Samuele, 7 e 14, dove Dio promette una discendenza di cui lui sarà padre, lui mi sarà, io gli sarò padre, lui mi sarà figlio, gli promette Dio, questa discendenza davidica. il cui regno Dio renderà stabile per sempre. Ecco, questa promessa viene ripresa e se ne annuncia il compimento. Sempre prima della nascita di Gesù, in Matteo abbiamo i fatti raccontati dalla prospettiva di San Giuseppe. Ecco, e a Giuseppe pure appare in sogno però un angelo. Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo, ecco, quindi l'identità è figlio di Dio, una figlianza divina. Ella darà una luce a un figlio e tu lo chiamerai Gesù, ecco di nuovo questo nome Gesù, egli infatti, quindi spiega il nome in questo modo, salverà il suo popolo dai suoi peccati. Abbiamo questo terzo punto dei nostri cinque, il perdono dei peccati. come, ecco, parte di questo annuncio, il primo annuncio a Giuseppe presenta Gesù come salvatore dai peccati. Sempre in rapporto alla nascita di Gesù presentiamo un ultimo testo, un testo in qualche modo profetico che è di tutto quella che sarà l'economia di Gesù. L'annuncio degli angeli, ecco di nuovo, per la terza volta, gli angeli ehm che appaiono ai pastori e un angelo del Signore avvolgendoli di luce disse non temetevi, annuncio una grande gioia, ecco di nuovo il tema della gioia, che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide, un'allusione di nuovo alle promesse del re Davidico, è nato per voi un salvatore, ecco che salvatore ci ricordiamo, che riprende il no, il Gesù significa salvatore, un salvatore che è Cristo Signore. Ecco qui abbiamo Gesù, salvatore, Cristo Signore. E vedremo che questo è come un anticipo di quello che sarà l'annuncio dopo la Pasqua, post-Pasquale, dove di nuovo degli angeli annunceranno, porteranno il primo annuncio che poi si diffonderà nel mondo intero, l'annuncio di Cristo risorto. Ecco, spiegheremo nel corso dell'incontro che cosa significa Gesù Cristo Signore, che abbiamo incluso questi tre termini nel titolo dell'incontro di oggi, il Kerigma di Gesù Cristo Signore. Durante la vita di Gesù, l'annuncio del Vangelo di Cristo è l'annuncio che Gesù stesso fa del Regno di Dio. Annuncia il Regno in molti modi, i Suoi miracoli, le parabole, ecco, tutte fanno presente il Regno di Dio di cui Lui è la presenza, Lui è il Regno in persona, dirà Origenero. L'annuncio di Cristo come Kerigma, di Gesù Cristo in maniera esplicita, avverrà a partire dal mistero pasquale. Dopo la Pasqua di Gesù, l'annuncio del Regno diventa l'annuncio di Cristo e della sua Pasqua. E questo comincia proprio sulle labbra di Gesù. Ecco, dopo la sua risurrezione appare ai discepoli, dopo l'episodio del suo camminare, apparire e camminare con i discepoli di Emmaus, lasciandosi riconoscere lo spezzare del pane, dialogando, ecco, parlando con loro, no, di tutto quello che era compiuto, spiegandogli le scritture, ricompare in mezzo ai discepoli riuniti a Gerusalemme, da Gerusalemme, e dice loro Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi, e col compimento. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro Così sta scritto Il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno. Mistero pasquale, mannaggia, mi sono dimenticato di Edin. Dovrebbe essere qui a sinistra evidenziato invece o sottombra, ma qui dovrebbe essere ben evidenziato. Scusate. E nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati. Ecco, questo è un altro punto che dovrebbe essere identificato e qui non c'è. Lo risolvo subito. Antiprati, grazie. Scusate questo piccolo riprendiamo. Ecco, allora adesso sì. La conversione del perdono dei peccati cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni ed ecco io mando su di voi colui che il padre mio ha promesso ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Ecco, questo è il promesso e questa potenza dall'alto è il dono dello spirito che fa parte e qui si potrebbe anche evidenziare in verde del compimento delle promesse. Ecco, quindi vediamo ecco, tanti altri aspetti di questo annuncio del Kerigma che Gesù risorto lancia ecco per la Chiesa. E così dopo la Pentecoste verrà ripreso dagli Apostoli ed è proprio Pietro che è il protagonista di questo annuncio per gran parte degli Atti degli Apostoli subito dopo la Pentecoste abbiamo questo uomini di Israele ascoltate queste parole Gesù di Nazareth ecco l'annuncio di Gesù uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli prodigi segni che Dio stesso fece tra voi per opera sua come voi ben sapete e questa questa sintesi della sua opera è un'allusione a ciò che avviene dopo il battesimo dopo che viene consacrato nel battesimo dopo questa sintesi degli anni della sua missione passa la Pasqua il mistero pasquale consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescenza di Dio voi per mano di pagani l'avete crucifisso e l'avete ucciso ora Dio lo ha risuscitato liberandolo dai dolori della morte perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere questo Gesù Dio lo ha risuscitati e tutti noi ne siamo testimoni innalzato dunque innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito promesso lo ha effuso come voi stessi potete vedere e udire sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che a voi avete crocifisso vi faccio notare qualche dettaglio dice qui che Gesù riceve lo Spirito dal Padre dopo la risurrezione innalzato alla destra e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito quindi alla destra del Padre dopo l'ascensione lo ha effuso e per questo questi due titoli Signore e Cristo sono collegati a alla risurrezione al frutto della risurrezione perché anche lì vi è una consagrazione di Spirito Salve è una prospettiva che apparirà in maniera molteplice nel Nuovo Testamento un altro kerigma che noi abbiamo subito dopo Pietro con Giovanni vanno nel Tempio guariscono uno storpio e di fronte a tutti che sono un paralitico tutti che sono stupiti per questo segno Pietro dice al popolo uomini di Israele perché vi meravigliate il Dio di Abramo il Dio di Isacco il Dio di Giacobbe ecco richiama le promesse ai padri ha glorificato il suo servo Gesù che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato quindi abbiamo l'uccisione avete ucciso l'autore della vita ma Dio l'ha risuscitato dai morti ecco ora fratelli so che avete agito per ignoranza come pure i vostri capi Dio ha compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti che cioè il suo Cristo doveva soffrire convertitevi dunque cambiate vita perché siano cancellati i vostri peccati e così possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore ed egli manda colui che aveva destinato come Cristo cioè Gesù qui c'è una nuova attesa dell'invio di Cristo della parusia che prospetta Pietro poi il breve un breve Kerigma al Sinedrio il Dio dei nostri padri è risuscitato Gesù che voi avete ucciso appendendolo a una cruz e lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore per dare Israele conversione per dono dei percati e di questi fatti siamo testimoni noi lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono ecco tornano sempre questi cinque temi questo il Kerigma fatto a Cornelio un pagano ecco parla di Gesù Signore di tutti che Dio consacrò in Spirito Santo e potenza questo consacrò è la è la crismazione il verbo greco qui dietro è l'unzione crismale ecco che lo lo rende l'unto di Dio il Cristo di Dio ecco questa parola di consacrata consacrazione è un verbo che richiama il suo essere Cristo a causa dal battesimo che riceve da Giovanni dopo il quale come Cristo di Dio consacrato di Dio passa benificando e risalando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo perché Dio era con lui molto curioso dovremmo tornarci noi normalmente diciamo Gesù è Dio qui invece dice Dio era con lui a partire da questa consacrazione dello Spirito siamo testimoni di tutte queste cose poi essi lo uccisero appendendolo una croce ma Dio lo ha risuscitato e viene questa risurrezione viene annunciata che è stato costituito giudice dei vivi e dei morti Signore a lui tutti i profeti danno questa testimonianza ecco un compimento dei profeti chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome giusto per farvi notare in questi testi che leggiamo che sono lunghi complessi ecco farvi notare come ci sono dei temi che ritornano dei contenuti che sono il centro dell'annuncio del Kerigma di Gesù Cristo in sintesi Filippo predicava il Cristo propone un lungo Kerigma di San Paolo che presenta Cristo riprendendo tutte tutta la storia con il popolo di Israele che trova compimento in Cristo e dice ascoltiamo lette dalla discendenza di lui secondo la promessa Dio inviò come salvatore per Israele Gesù gli abitanti di Gerusalemme infatti e i loro capi non l'hanno riconosciuto eppur non avendo trovato alcun motivo di condanna morte chiesero a Pilato che egli fosse ucciso dopo aver dempiuto tutto quanto era stato scritto di lui lo deposero dalla croce e lo misero nel sepolcro ma Dio lo ha risuscitato dai morti ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme e questi ora sono testimoni di lui davanti al popolo e noi vi annunziamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata perché Dio l'ha compiuta per noi loro figli risuscitando Gesù allora adesso vorremmo cercare di comprendere questi punti che abbiamo visto questi cinque punti cosa significa che il kerigma di Gesù Cristo l'annuncio della sua persona Gesù Cristo Signore Figlio di Dio con queste dimensioni il mistero pasquale la conversione come l'identità di Cristo e il suo annuncio in questa ricchezza che troviamo nei kerigma nel kerigma allora per cercare una comprensione di questo annunciato seguiremo tre fasi ecco che vogliono un poco raccogliere la riflessione credente ecco della Chiesa che ha ricevuto questo annuncio e l'ha sperimentato vero forte operante in ogni persona in ogni credente e nella Chiesa nel suo insieme e tramite questa esperienza dell'annuncio accolto la riflessione è cresciuta e ecco i tre punti che presentiamo sono primo Cristologia discendente e ascendente secondo punto la figliolanza divina di Gesù terzo punto il mistero di Gesù è la nostra salvezza come ciò che avviene in Gesù nel mistero di Cristo poi è buona notizia che quindi kerigma annuncio per noi allora adesso con pazienza entriamo in questo meraviglioso mistero e vi annuncio che è un po' difficile il preavviso non è facilissimo seguire però se avrete la la pazienza ecco di 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 ascoltare di cercare di capire ecco spero di di poter poter aiutare entrare in nella meraviglia è come un il capolavoro più grande che vi è il ecco ciò che Dio ha compiuto in Cristo ma iniziamo da questa parte la Cristologia discendente e ascendente allora se noi ehm guardiamo il Nuovo Testamento la Chiesa che riflette sulla rivelazione di Cristo si può sintetizzare la riflessione ecclesiale nel Nuovo Testamento in due titoli il titolo Gesù è il Logos e Gesù è il Cristo il Logos è il verbo no? il verbo eterno del Padre e poi Gesù è il Cristo questi due titoli corrispondono a due prospettive Gesù è il Logos corrisponde a quella che possiamo chiamare la prospettiva di una Cristologia discendente che ha come testo centrale Giovanni 1,14 il verbo si è fatto carne ha posto e ha posto la sua dimora in mezzo a noi noi diciamo nel credono scese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria questo scese dal cielo questa prospettiva discendente era il verbo eterno che preesisteva presso il Padre eternamente ecco Dio con Dio Dio da Dio luce da luce eternamente presso il Padre dalla divinità scende discende ecco si fa carne e in questa prospettiva il rapporto tra Gesù che è Dio e che è uomo è quello dell'unione ipostatica il verbo eterno figlio il figlio eterno di Dio si unisce ipostaticamente cioè nella persona nella sua persona nella sua ipostasi si unisce unisce a sé assume la natura umana quindi c'è un'unione ormai incendibile ecco impressa nella stessa persona eterna del figlio tra la natura divina della persona del figlio di Dio e la natura umana che lui ha assunto questa è la prima prospettiva Gesù che è sceso a noi è la prospettiva dominante nei concili cristologici ecco in Nicea Costantinopoli ad Efeso ecco del quarto quinto secolo ma nella scrittura e nei primi secoli troviamo fortissima un'altra prospettiva che è sintetizzata nella proclamazione Gesù è il Cristo che cosa è che cosa c'è qui allora il testo chiave uno dei testi chiavi è Atti 10 Atti 10 38 che abbiamo visto prima dove dice che in quel carico di Pietro dice che fu consacrato di Spirito Santo e Dio era con lui questo il secondo testo chiave di quella che possiamo chiamare una cristologia ascendente è Romani 1 1 4 che ora vi leggo che è un testo sorprendente perché anche se è una è una prospettiva molto presente nel Nuovo Testamento siamo così abituati all'altra che Gesù è Dio e basta Gesù è Dio è il figlio di Dio no? Per l'insistenza che a partire dalle eresie che negavano questa divinità di Gesù l'arianesimo in primis e la risposta dei concili l'insistenza su queste identiche Gesù è Dio è il figlio di Dio è il Logos ha messo un po' in penombra quest'altra prospettiva importantissima Gesù è il Cristo ora leggiamo Romani 1 1 4 dice è Paolo che si presenta nella lettere romani Paolo servo di Gesù Cristo apostolo per chiamata scelto per annunciare il Vangelo di Dio dice il Vangelo che quindi l'annuncio che riguarda il figlio suo il figlio suo è il figlio eterno nato dal seme di Davide secondo la carne quindi nato nella carne costituito figlio di Dio con potenza quindi è il figlio di Dio il figlio suo ma è costituito figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità in virtù della risurrezione dei morti Gesù Cristo nostro Signore dice è il figlio sì ma questo figlio nasce secondo la carne ed è nato secondo la carne viene costituito figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità e con un ruolo dello spirito nel costituirlo figlio di Dio in virtù della risurrezione quindi è figlio ma viene costituito figlio per opera dello spirito è un'opera che si compie nella risurrezione allora vediamo che l'unione tra l'umanità e la divinità in questa prospettiva è un'unione più dinamica certo sono unite fin dall'incarnazione ma è un'unione che cresce per opera dello spirito e consacre per questo il Cristo richiama l'unione dello spirito che attraversa tutta la vita di Gesù fino alla sua risurrezione un'unione dinamica tra la umanità e la divinità in Cristo ecco queste due prospettive non sono parallele sono tra loro congiunte e possiamo dire di più che non sono neanche una successiva all'altra che è strano perché l'unione ipostatica avviene al momento dell'incarnazione in cui è nell'incarnazione che Gesù scese dal cielo e si è incarnato nel seno della Vergine Maria ecco il momento dell'incarnazione quell'altra prospettiva abbiamo letto nella lettera ai Romani 1 1 4 che è costituito figlio di via con potenza secondo lo spirito di santità nella risurrezione in virtù della risurrezione la fine della sua vicenda e allora ci sembrano queste due dinamiche sembrano essere una successiva all'altra prima scende poi sale la discesa è il fondamento della salita questo è parzialmente vero è vero che la discesa di Gesù è il fondamento della dinamica ascendente dell'umanità di Cristo che viene elevata ma queste due dinamiche sono tra loro incrociate fin dal primo momento Gesù Cristo il figlio eterno è sceso per l'incarnazione ma già da quel primo momento in virtù dell'incarnazione già l'umanità è esaltata è elevata già nell'incarnazione la nostra la nostra umanità è riceve una incredibile dignità per essere stata assunta dal figlio di Dio è già elevata nell'incarnazione e non solo questo tutta la sua economia Gesù continua a scendere fino alla morte alla morte di croce fino agli inferi Gesù non smette di scendere nell'incarnazione ma continua ad abbassarsi e viceversa l'umanità non solo è elevata a Dio nell'incarnazione ma fino all'ascensione in cielo l'umanità di Cristo viene elevata verso il Padre quindi Dio scende all'uomo e l'uomo è elevato a Dio e sono due movimenti incrociati in cui l'elevazione dipende sempre dalla Gesù dalla discesa nessuno è salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo e questo vale attraverso tutto il dinamismo incrociato dice von Balthasar se ce l'ho forse ce l'ho si dice così una citazione di von Balthasar dice Gesù in Gesù Cristo tali due movimenti sono tra loro congiunti non segue questi due cammini successivamente ma simultaneamente essendo l'identità ipostatica dei due cammini il legame sostanziale l'alleanza ontologico tra Dio e il mondo ecco Dio che scende all'uomo e l'uomo che è elevato a Dio sono due movimenti che in Gesù sono ipostaticamente uniti nella sua unione qualcuno chiede di annotare il contenuto condiviso ma rifiuto perché continua può creare caos allora proviamo ad andare avanti perché questo perché ci interessano perché non ci stiamo solo complicando la vita con tutti questi discorsi e cristologia discendente cristologia discendente ma che significa per noi ma che rilevanza c'ha qui invece è molto rilevante questo perché questo mistero che va realizzandosi in Gesù Cristo è il fondamento dei compimenti dei disegni di Dio in noi possiamo vedere come tre livelli di filiazione via il figlio eterno che è eternamente figlio del padre in tutta l'eternità all'interno della santissima eternità prima della creazione del mondo ecco ed è il figlio unigenito perfettamente completamente figlio come il padre completamente padre abbiamo parlato la volta scorsa a partire dal figlio eterno in forza della fiolanza eterna il figlio che si incarna assume l'umanità e l'umanità da lui assunta diventa partecipe della fiolanza eterna ecco la fiolanza di Gesù Cristo signore il mistero di Gesù Cristo figlio di Dio che si è fatto figlio dell'uomo divinizzando l'umanità da lui assunta e poi terzo livello e per questo è importante capire bene questo secondo livello il terzo livello è la fiolanza nostra che è partecipazione e l'estensione a noi di ciò che avviene nel figlio ecco se ciò che avviene in Gesù Cristo porta il mistero del figlio eterno al figlio incarnato il secondo passaggio sarà il passaggio di ciò che è avvenuto nel figlio incarnato a tutti noi in tutti questi passaggi c'è un ruolo fondante l'azione del figlio con lo spirito santo Gesù Cristo Cristo significa punto di spirito santo è quello per cui Gesù Cristo e noi che siamo cristiani ecco c'è un'azione dello spirito che fa sì che la figliolanza passa al figlio incarnato e a noi ecco vogliamo allora per comprendere meglio questo focalizzarci abbiamo appena parlato della cristologia discendente ascendente che è in funzione nostra e vogliamo per capire bene la funzione di ciò che è avvenuto in Cristo per noi focalizzare questo passo centrale la figliolanza di Gesù allora la figliolanza eterna del figlio eterno presso il padre della trinità è il fondamento di ciò che avviene in Gesù con un dinamismo abbiamo detto ma un dinamismo che ha dei momenti chiave via l'incarnazione per opera dello spirito santo via il battesimo di Gesù momento centrale che inaugura ecco la sua la missione salvifica che lui compirà e che avrà il suo culmine nel mistero pasquale con la risurrezione di Gesù dai morti e in tutti questi tre passaggi c'è un ruolo fondamentale lo spirito santo Gesù è il Cristo non solo Gesù è il logos eterno ma perché è il logos lo spirito santo agisce e quindi Gesù Cristo vive questo questo dinamismo che ora cerchiamo di approfondire allora iniziamo da l'incarnazione lo chiamerai lo chiamerai Gesù questo è il primo passo l'incarnazione di Gesù ecco abbiamo già visto che viene chiamato figlio dell'altissimo figlio di Dio quindi è il figlio eterno che si incarna per opera dello spirito santo e quindi già fin dal primo momento della sua esistenza lo spirito santo agisce possiamo vedere quest'azione dello spirito santo nella in quell'aspetto di creazione di nuova creazione che avviene nell'assunzione della natura umana che Gesù fa nel nel gremo della Vergine Maria lui assume questa natura dalla Vergine Maria ma in questa assunzione c'è un'opera creatrice un'azione creatrice dello spirito lo spirito creatore voglio spiegarvi una cosa molto teologica ma fondamentale forse qualcuno si può immaginare che nel grembo della Vergine Maria vi è la natura vi è Gesù la natura umana che poi viene assunta e ci c'è un attimo in cui c'è una natura umana che poi viene assunta prima del suo essere assunta questo non esiste se così fosse ci sarebbe una dualità in Gesù invece questa natura umana proprio nel momento in cui nell'assunzione lo dice Leone Magno lo ripete Agostino non è creata e poi assunta ma la natura umana che Gesù fa propria nell'atto di assumerla la crea ipsa assunzione creata est nella stessa assunzione assunzione creata quindi c'è un'opera dello Spirito Santo che crea la natura umana di Cristo nell'atto in cui il figlio la assume che cosa è importante qui per noi ecco chi viene incarnato per opera dello Spirito e lo Spirito Santo agisce e agisce in una una vita di Gesù che è da piccolino che nasce che cresce che è una vita filiale lo Spirito fa maturare in lui la coscienza nella sua umanità di essere figlio del Padre di essere figlio eterno poi sappiamo pochissimo di questi primi anni fino al battesimo di Gesù ma il poco che sappiamo è molto significativo vi è l'episodio della fuga in Egitto a causa della perseguizione di Erode che vuole uccidere il bambino e Matteo interpreta questo brano con la profezia dall'Egitto ho chiamato mio figlio cioè che anche in questo evento questa fuga in Egitto da cui deve poi tornare vi è coinvolta la figliolanza che il Padre ha nei confronti di questo uomo Gesù l'uomo Gesù che è figlio di Dio chiaro ma è un uomo e il Padre rispetto a questo uomo riconosce una figliolanza dall'Egitto ho chiamato mio figlio è parte di una crescita nella figliolanza non è solo la figliolanza eterna che c'è ma una crescita nella figliolanza e la stessa cosa l'abbiamo nell'episodio il bario chiamato la volta scorsa il ritrovamento nel Tempio dove Gesù risponde a Giuseppe e Maria dicendo non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio e diventa consapevole nella sua umanità di essere il figlio del Padre quindi l'umanità sta crescendo nella figliolanza del Padre Paterra lui che è il Figlio Eterno nell'umanità va crescendo nella figliolanza e questa crescita ha un momento di svolta proprio nel battesimo di Gesù quando nel battesimo di Gesù perché un episodio raccontato da tutti quanti evangelisti risuona leggo leggo la versione di Matteo ed ecco si aprirono i cieli e vide lo spirito di Dio scendere in forma di colomba e venire su di lui ed ecco una voce venne dai cieli che diceva questi è il mio figlio di letto nel quale ho posto la mia compiacenza normalmente interpretiamo il battesimo di Gesù come se fosse manifestazione della sua figliolanza questa voce del Padre è costatativa costata e in forma manifesta i presenti e poi a tutti coloro che ne ricevano testimonianza manifesta che Gesù è il Figlio Eterno è vero che Gesù è il Figlio Eterno ed è vero che questa parola questa voce del Padre manifesta la figliolanza anche eterna ma vi è di più nel battesimo Gesù è costituito in modo nuovo Figlio del Padre nell'umanità quanto all'umanità l'umanità assunta è un di Spirito Santo la persona la terza persona della Sistima Trinità la persona non è un'immagine un singolo sotto forma corporea dello Spirito Santo realmente la terza persona della Santissima Trinità consacra unge discende sull'irriversabile irreversibile in maniera irreversibile sull'umanità di Gesù e la consacra diventa il Cristo il Vangelo di Giovanni sottolinea questo aspetto Giovanni dice ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui io non lo conoscevo ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare mi disse colui sul quale vedrai discendere rimanere lo Spirito rimanere fondamentale è colui che battezza nello Spirito Santo ecco il battesimo di Gesù questa discesa sull'umanità di Cristo sarà proprio perché rimane sulla sua umanità da quella umanità tutti noi riceveremo lo Spirito Santo saremo battezzati dallo Spirito in acqua in Spirito a partire da questa discesa dello Spirito sull'umanità nel battesimo di Gesù diventa il Cristo di Dio va bene e per questo subito dopo va a Nazareth apre il roccolo e dice lo Spirito del Signore è superiore per questo mi ha consacrato quel termine tecnico questa consacrazione crismale con l'olio di Letizia mi ha consacrato ecco per l'opera l'anno di grazia che porterà a compimento Gesù quest'opera nella forza dello Spirito andrà nel deserto per sconfiggere il diavolo andrà a Nazareth inizierà tutte quelle opere che abbiamo letto nelle ultime domeniche a Messa ecco tutta la sua missione di liberare dal male e portare la fiolanza divina un anno di grazia del Signore in forza dello Spirito che lo porterà a compiere quest'opera nella sua Pasqua di morte e risurrezione ed ecco che abbiamo ehm se Gesù per l'incarnazione Cristo per il battesimo che lo consacra lo Spirito Santo che consacra la sua umanità ecco la risurrezione lo costituisce Signore Signore di tutto l'universo di tutta la creazione ma non semplicemente Signore perché è il figlio eterno del Padre per mezzo del quale sono state create tutte le cose no? questo è chiaro lui era già Signore in questo senso no? viene costituito Signore nell'umanità l'umanità di Cristo l'umanità riceve la Signoria sul cielo e sulla terra ecco c'è il testo di Romani 1.4 che abbiamo letto ecco l'inizio di tutta questa sezione e altri testi importantissimi sono atti 13.33 questo è il Kerigma di San Paolo ad Antiochia finisce dicendo vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata perché Dio l'ha compiuta per noi loro figli risuscitando Gesù come anche sta scritto nel Salmo II mio figlio sei tu io oggi ti ho generato ecco questa figliolanza che si compie nella risurrezione di Gesù ecco ed è grazie a questa glorificazione di Gesù nella sua umanità che noi possiamo ricevere lo Spirito Santo ecco del corpo del corpo di Gesù Cristo risorto dice San Paolo prima c'è il corpo animale poi c'è il corpo spirituale ecco se c'è un corpo animale vi è anche il corpo spirituale perché sta scritto il primo uomo Adamo divenne un essere vivente ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita chi è questo spirito datore di vita ultimo Adamo è Gesù Cristo e non Gesù Cristo qualsiasi momento Gesù Cristo risorto ecco che dal cielo glorificato dal cielo dona lo Spirito ricordiamo anche Atti 2 32 33 dove dice San Pietro avendo che Cristo asceso alla destra del Padre riceve lo Spirito e lo effonde alla destra del Padre Giovanni 7 37 dice non c'era ancora lo Spirito perché Gesù non era stato ancora glorificato e sta parlando della glorificazione che avverrà tramite il mistero pasquale quindi quando noi diciamo Gesù Cristo è il Signore noi stiamo questa professione di fede include tutto il mistero della sua vita in cui lui prende la nostra scendendo dal cielo e scendendo fino agli inferi prende la nostra umanità e la innalza fino alla gloria del Padre ecco allora per concludere quindi questa riflessione sul mistero di Cristo leggiamo il meraviglioso e ascoltiamo il meraviglioso inno dei filippesi dove ci sono proprio questi due movimenti la kenosi e l'esaltazione di Gesù Cristo e conclude con la professione Gesù Cristo è il Signore avviate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù egli pur essendo nella condizione di Dio non ritenne un privilegio l'essere come Dio ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo diventando simile agli uomini dall'aspetto riconosciuto come uomo umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che al di sopra di ogni nome perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli sulla terra e sotto terra e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore a gloria di Dio Padre allora ecco veramente un testo straordinario vi aggiungo una piccola parentesi che ho menzionato settimana scorsa non ritenne un privilegio l'essere come Dio qui il testo originario cioè non ritenne un tesoro da rapire l'essere come Dio per quello lui si svuota perché vede che l'essere come Dio quest'uguaglianza con Dio è qualcosa che riceve dal Padre non è qualcosa che deve prendere ma che riceve e allora si può svuotare perché riceve dal Padre quello non lo deve difendere la sua divinità la riceve in maniera filiale dal Padre ecco in questo è proprio viene a sanare anche la disobbedienza la sua obbedienza fino alla morte di Croce viene a sanare la disobbedienza di Adamo che invece si volle rubare rubare afferrare la divinità come un tesoro da da strappare no? da conquistarsi non da ricevere filialmente dal Padre quindi c'è questa discesa e questa ascesa per questo lo esaltò io dono il nome che è al di sopra di ogni nome Gesù Cristo è il Signore ecco questo Kyrios questa signoria che il nome al di so dà potere su tutto il creato non semplicemente in Gesù Cristo in quanto preesistente figlio di Dio ripeto ma come l'umanità assunta da Cristo riceve questa signoria allora passiamo al dopo aver riflettuto sul mistero della figliolanza di Gesù Cristo dei misteri della sua vita e tutte le cose che lui ha fatto fanno parte di questo grande mistero ecco riflettiamo ora sulla rilevanza di questo per noi ecco Gesù è la nostra salvezza la nostra filiazione possiamo esprimerla in due parole ciò che è avvenuto in Cristo è paradigma o modello ma non solo è un modello da imitare come uno schema un paradigma da ripetere che sta di fronte a noi ma è il fondamento che opera rende possibile l'imitazione sua è il fondamento di questa imitazione di poter seguire le sue orme cerchiamo adesso con un piccolo schema su questo slide diamo una visione di insieme e poi cerchiamo di approfondire allora abbiamo parlato di tre livelli di fiolanza allora che cosa è avvenuto in Gesù queste due frecce che scendono e salgono richiamano la cristologia discendente il verbo eterno il logo si fa carne scende fino agli inferi e l'umanità è esaltata ecco attraverso tutta l'economia di Gesù che abbiamo visto ok è il figlio eterno che assume l'umanità nel grembo della Vergine Maria porta anche questa umanità alla piena figliolanza unisce l'umanità da lui assunta in lui nella sua persona alla totale divina figliolanza del padre tramite questo duplice movimento discendente ascendente che abbiamo descritto in maniera un pochino più dettagliata nelle fasi incarnazione battesimo risurrezione ecco in forza dell'unione ipostatica lo spirito proprio perché quell'uomo è il figlio eterno lo spirito agisce sull'umanità e la porta alla piena filiazione piena filiazione dell'umanità di Cristo questa stessa cosa ora si ripete a partire dalla figliolanza di Gesù Cristo risorto Signore in cielo noi riceviamo lo spirito santo ecco se siamo uniti a Cristo risorto lo spirito se l'umanità degli uomini unita all'umanità che già è pienamente divinizzata in cielo nell'unione con quest'umanità lo spirito può agire su di noi e come ha divinizzato l'umanità di Gesù così divinizza la nostra umanità fino a giungere a questo terzo livello la fiolanza del Christus totus capo e membra è sempre lo stesso figlio cioè non è che il figlio eterno è un figlio e il Christus totus è un altro figlio è lo stesso figlio ma alla fiolanza del figlio eterno viene associata in prima battuta l'umanità da lui assunta e poi in forza di questa l'umanità di tutti gli uomini e nel Christus totus tutti noi siamo inseriti in quel figlio eterno del padre la sua eterna fiolanza siamo una sola cosa con quella fiolanza non è un'altra fiolanza non so se rendo l'idea va bene allora adesso cerchiamo a partire questo quadro di insieme adesso vogliamo focalizzare un po' meglio il paradigma prima e poi fondamento tra Gesù paradigma quindi abbiamo visto che nella sua storia nei misteri della sua vita ha tracciato un percorso fin dall'incarnazione lo Spirito Santo guidava Gesù ok e questa opera di Gesù nel figlio incarnato ha portato a una maturità della sua coscienza del padre della sua obbedienza al padre da ricevere lo Spirito la consacrazione la discesa della terza persona sulla sua trinità nel battesimo e poi con questa rinnovata effusione dello Spirito l'unione all'umanità di Cristo della terza persona della tantissima trinità questo Spirito porta Gesù Cristo fino alla risurrezione fino alla Signoria ecco questo l'abbiamo descritto prima ecco questo è il modello di ciò che avviene in noi allora qual è la prima opera dello Spirito Santo in ogni ogni uomo che nasce per azione della grazia di Dio che è la grazia dello Spirito siamo condotti al battesimo ecco quando adesso noi quando battezziamo i bambini non ce ne rendiamo tanto conto ma anche quando un bambino viene battezzato in che modo giunge al battesimo perché lo Spirito Santo ha operato nei genitori e in tutta la Chiesa perché quel bambino potesse essere battezzato quando si vede quando un adulto viene battezzato questo primo processo un'opera della grazia dello Spirito Santo che opera nei cuori è più visibile che è un'opera della grazia che fa sì che uno desideri inizia a credere in Cristo e desidera il battesimo e cresce in questo desiderio fino al momento in cui viene unito a Cristo sacramentalmente la sua morte e risurrezione nelle acque del battesimo e poi via la vita cristiana a partire dal battesimo l'azione dello Spirito Santo che viene la cui presenza è perfezionata il battesimo è perfezionato dal dallo Spirito Santo della Cresima nel sacramento della Cresima che è come a Pentecoste come è sceso su Gesù nel suo battesimo la terza persona scende sulla sua umanità come questa umanità questa terza persona scende sugli apostoli a Pentecoste e così scende su ognuno di noi nel sacramento della Cresima e lo Spirito Santo che riceviamo nel battesimo è sigillato perfezionato dal dono dello Spirito nella Cresima poi opera in noi la vita cristiana portandoci alla resurrezione scusate torno indietro allora fin qui abbiamo Gesù Cristo come paradigma ciò che avviene nella sua vita è il modello di ciò che avviene nella nostra nella vita di tutti i cristiani condotti prima al battesimo e poi dal battesimo a essere discepoli di Gesù e fino a morire moriamo con Cristo e risorgeremo con lui ma Gesù non è solo paradigma ma è anche fondamento di tutto questo processo che avviene in noi a somiglianza di ciò che avvenne in lui in che modo è fondamento nel senso che tutto ciò che avviene in noi può avvenire in forza di un'unione con Gesù con lo Spirito Santo che ha divinizzato l'umanità assunta da Gesù di Gesù Cristo ha potuto agire sull'umanità assunta perché era l'umanità del Figlio Eterno non so se capite cioè l'azione che ha portato al battesimo di Gesù è possibile perché quell'uomo su cui scende lo Spirito era il Figlio e per quello può ricevere lo Spirito Santo ecco la stessa cosa vale per noi ecco lo Spirito Santo può guidare ogni uomo a Cristo in maniera che non è indipendente da Cristo ma perché ogni uomo ha una prima unione con Cristo in forza della nostra natura la natura umana l'uomo è creato Adamo dice la lettera ai Romani 5-14 Adamo è figura di colui che doveva venire in Adamo vi è già un anticipo un rapporto prolettico si dice cioè di anticipazione al verbo incarnato la carne di Adamo è l'anticipo è la promessa dice Tertulliano è pegno dell'incarnazione che è libera non è obbligatoria non è che Dio si deve incarnare rimane libera ma la carne la carne degli uomini già di tutti gli uomini anche prima di Cristo è in vista è creata siamo creati nella carne in vista del verbo incarnato questa chiamata il rapporto con prolettico con il verbo incarnato quando il figlio veramente si incarna viene ancora rafforzato una volta che il figlio eterno ha preso la carne ogni uomo ha un rapporto con Cristo già per avere la natura umana lo dice il concilio Vaticano II Gaudium et Spes XXII che con la sua incarnazione si è unito in certo qual modo ad ogni uomo ed è in forza di questa unione con Cristo che già nella creazione per la vocazione a essere figli nel figlio e poi a partire dalla vocazione in forza dell'unione tra Cristo e la natura umana ogni uomo è unito a Cristo e per questa unione lo Spirito Santo agisce su di noi e ci guida guida tutta l'umanità verso il battesimo ogni uomo perché ha la natura umana ha un rapporto con Cristo e quindi lo Spirito di Cristo guida ogni uomo verso il battesimo verso la Chiesa verso l'entrata nella Chiesa nel battesimo poi che succede quando veniamo battezzati abbiamo una nuova unione con Cristo non abbiamo solo una unione con la con la natura di Cristo incarnato abbiamo un'unione con la natura di Cristo risorta l'incarnazione era un primo stadio quando veniamo battezzati siamo battezzati nella sua morte immersi nella sua morte e risurrezione è un contatto fisico reale con Cristo risorto il suo mistero pasquale e questo contatto si rafforza poi nelle Eucaristie la partecipazione all'Eucaristia dell'importanza dei sacramenti dell'iniziazione cristiana ecco che ci uniscono al mistero pasquale di Cristo al corpo risorto di Cristo e all'azione dello Spirito Santo che è possibile in forza di questa unione con il mistero pasquale di Cristo e così ecco noi per questo noi possiamo seguire Cristo seguire le sue orme e infine saremo uniti alla risurrezione di Gesù quando saremo uniti alla gloria di Gesù al corpo non solo al mistero pasquale ma al al corpo glorioso di Gesù perché il corpo risorto non è ancora il corpo glorioso il corpo risorto Gesù risorto appare la maddalena dice non mi trattenere devo ancora salire al padre e ci sono 40 giorni prima dell'ascensione il tempo dell'attesa dell'entrata prima dell'entrata nella terra promessa 40 anni prima ecco prima dell'entrata nel cielo del risorto di colui che già è risorto 40 giorni e dopo 40 giorni entra nella gloria l'ascensione porta il corpo di Gesù nella gloria del padre quando Gesù tornerà tornerà o meglio quando verrà di nuovo non è giusto dire tornare perché tornare sembra come prima invece no verrà nella gloria è venuto prima nell'umiltà ora siamo uniti con lui al mistero pasquale che è presente nei sacramenti quando tornerà Gesù Cristo e quando verrà sempre dico tornerà quando verrà nella gloria del padre la sua umanità porterà la gloria del padre e così avendo contatto a lui nella gloria risorgeremo con lui per questo la risurrezione è legata alla parusia alla venuta di Cristo glorioso ed ecco che abbiamo le tre tappe che la teologia classicamente riconosce la natura umana noi abbiamo tutti gli uomini nasciamo con la natura poi siamo e siamo immagini di Dio per natura poi diventiamo immagini di Dio per grazia attraverso tutta la vita sacramentale ecco che ci conforma Gesù sempre di più ma la perfetta conformazione a lui sarà nella gloria per il contatto con il corpo di Cristo glorioso nella gloria del padre quindi vedete che e ci sarà in rapporto a quel contatto una pienezza di spirito ancora nuova come Gesù stesso asceso nella gloria del padre e riceve una pienezza di spirito santo maggiore che poi riversa su tutti gli uomini ecco allora quindi che cosa volevo spiegarvi qui poi spero che non sia soltanto uno schema no eh io riflettendo su queste cose sono rimasto meravigliato e più ci pensi più è meravigliato è proprio una meraviglia un'ele una eleganza una perfezione ecco di tutti i disegni di Dio sono perfetti e tutto c'è tutto quello che ci serve ci è rivelato anche nel e possiamo ecco meditarlo e approfondirlo sempre più e Gesù è il modello di ciò che che Dio compie in noi la filiazione divina che noi entriamo ad essere figli nel figlio il corpo è su Christus totus ecco figlio eterno in cui siamo anche noi e questo è compimento dei benevoli disegni del padre ma è anche allo stesso tempo redenzione dal male ecco allora questo è l'ultimo punto che vorrei poco sviluppare con voi tutto questo che abbiamo descritto è un vedete che non è incentrato tanto il peccato salvo nel fatto che Gesù è morto però poteva quasi anche essere senza il peccato un discorso del genere reggerebbe pur senza il peccato ma ecco se tutto questo è compimento degli originari disegni con cui lui ha creato gli uomini in Cristo in vista di lui ecco per ricapitolare tutte le cose in lui compie i suoi disegni allo stesso tempo redime dal male ecco queste sono due dimensioni della salvezza due aspetti congiunti della salvezza che ci porta Gesù Gesù è salvatore salvatore Gesù salva salva come salvatore compie i disegni e redime dal male allora questi due aspetti sono di fatto congiunti ma non sono di principio inscendibili c'è una certa asimmetria e in via di principio potrebbe esserci il compimento del bene anche se non ci fosse stato il peccato e vi è una certa asimmetria è molto importante che nella parola di Dio nella scrittura nella rivelazione la prima parola il bene non è il peccato la prima parola il bene tutti i disegni di Dio si rapportano al bene il peccato subentra una volta entrato il peccato le due questi due aspetti della salvezza sono congiunti di fatto sono congiunti e da parte nostra quo ad nos e cioè noi sperimentiamo il compimento il compimento dei disegni del padre la figliolanza nel perdono dei peccati nella misericordia ma i disegni la figliolanza che Dio ci dà non si esaurisce del perdono dei peccati è di più e corrisponde a un disegno che precede il peccato quindi c'è una una asimmetria una maggior un peso maggiore che ha la polarità del bene rispetto alla storia del peccato che pur di fatto ora Gesù è venuto per i nostri peccati perché non poteva salvarci nel senso di una portarci la pienezza della vita dei disegni di Dio senza affrontare il peccato però non è che si è incarnato per liberarci dal peccato di fatto ma l'incarnazione ha ragion d'essere anche senza il peccato dei uomini c'è un bellissimo testo di Leone Magno l'ultimo brano che leggiamo è proprio riprende quello che dicevamo sul movimento discendente e ascendente del mistero di Cristo che questo incontro tra Dio e l'uomo che avviene nella sua persona dinamicamente per poter poi essere partecipato a noi è un incontro dove la discesa non deve solo superare l'abisso tra il Dio increato e l'uomo creato ma l'abisso tra il bene e il male tra la vita e la morte dice così per elevarci a sé discese fino a noi e discese al punto da assumere non solo l'umana sostanza che avrebbe fatto anche senza il peccato ma anche la condizione della natura soggetta al peccato accettando anche la divina che la divina impassibilità patisse nella sua persona ciò che miseramente sperimenta l'umana mortalità quindi discende fino al peccato fino alla morte perché da lì prende l'uomo e lo inalza fino alla gloria del Pano va bene allora chiaramente quando uno annuncia il Kerigman non si mette a fare tutti questi discorsi questo è evidente però come vi diceva anche Don Andrea nel primissimo incontro questi incontri vogliono essere non tanti incontri su come insegnare fare catechismo ai bambini quanto incontri che ci aiutano noi per primi ad approfondire anche tramite un minimo di comprensione per quanto sono sempre misteri che sfuggono infinitamente ogni meravigliosamente sfuggono alla nostra comprensione eppure tutto quello che Dio ha rivelato rifulge anche di una bellezza di alla nostra mente di luce per la nostra mente che ci aiuta ad apprezzare la meraviglia dei disegni di Dio il suo amore l'eleganza la perfezione di Dio della rivelazione della nostra vita di tutto quello che viviamo e spero ecco che i punti fondamentali teologici che sono stati esposti possano poi servire anche a ritraducendoli in una catechesi semplice accessibile vicina personale però possa permetterci di annunciare in maniera sempre più ricca la bellezza del mistero di Gesù il Kerikma di Gesù Cristo Signore grazie Don Davide avrei finito come stiamo a orario ho parlato abbastanza ho parlato un'oretta e passa ok un po' meno di un'ora forse un po' meno di un'ora va bene c'è un po' di tempo per le domande allora lo prendo da principio seguo un po' le domande si sentiva male no si è sentito bene non sono ancora arrivati alle domande mi lasciate c'è una sul cromosoma Y atteso che Gesù è vero Dio è vero uomo nell'incarnazione il cromosoma Y di Gesù com'è costituito originato ok perfetto prima c'era una risposta a cui ho risposto ma una domanda a cui ho già risposto ma lo Spirito Santo non lo aveva ricevuto con il battesimo nel Giordano perché San Pietro dice che lo riceve ha sceso la destra del Padre in Atti 2 che una cosa dice se sarà sbagliato forse sai stava appena iniziando le prime armi invece no anche quello fa parte della parola di Dio ecco che c'è una crescita dello Spirito Santo in Gesù è una crescita che ha anche una crescita graduale ma in questa crescita graduale ci sono anche dei salti qualitativi battesimo sicuramente dal concepimento fino al battesimo tramite la sua crescita umana graduale anche lo Spirito Santo sempre più ha operato nella sua natura umana e poi nel battesimo c'è un santo e così anche nella risurrezione nell'ascensione al cielo sono dei momenti che hanno dei passaggi qualitativi e sicuramente l'ha ricevuto anche nel battesimo e sicuramente lo Spirito Santo rendui dal fin dal dal battesimo al Giordano e poi allora il cromosoma Y come è costituito originato ok allora è una domanda interessante perché un po' noi cerchiamo di immaginarci questa cosa no? ci viene normale no? allora lì vedo veramente una funzione creativa perché non è possiamo escludere alcune cose no? non è un clone di Maria questo è chiaro no? quindi non è come una cellula di Maria che cioè è Maria ma è anche figlio di Dio e non è una femmina è un maschio quindi c'è un cromosoma almeno un cromosoma che è diverso da quello di Maria diciamo così in maniera molto semplicistica io penso che quello che dalla rivelazione possiamo forse dire che c'è un'azione creativa dello Spirito una funzione creativa dello Spirito ma che non precede l'assunzione questo è il punto teologico molto importante è questo che non è che si va a creare una cellula umana che poi viene assunta dal verbo ma la costituzione di quella cellula per opera dello Spirito Santo quindi opera e lo Spirito Santo è creatore ha creato l'universo Dio può creare no? quindi c'è un'opera creativa in che modo poi l'opera creativa abbia messo insieme la carne da Maria con un operare creativo di Dio sta a Dio noi sappiamo dal modo di agire rivelato che interviene il meno possibile nelle leggi della natura Dio opera tramite le cause seconde il più possibile perché sono messe da Lui e sono già preparate da Lui per i suoi disegni ecco che nell'atto nel momento in cui il verbo assume le tre persone sempre operano in maniera congiunta il padre manda il verbo assume lo Spirito opera creativamente sull'umanità di Maria perché sia l'umanità del figlio ecco perché lo Spirito opera sempre sull'umanità siccome l'umanità del figlio può operare ma operando su umanità la rende filiale partecipa all'umanità la filiazione che il figlio eterno ha ecco quindi certamente è un mistero però quello che secondo me è importante dire è questo che non è un clone c'è un'opera creatrice di Dio che intende intervenire da quello che vediamo di tutta l'opera di salvezza a interrompere il meno possibile le cause l'ordine causale della natura vedo altri non è facile ma mi fa molto riflettere il passaggio dalla nascita fino alla morte il passaggio dalla nascita fino alla morte e forse anche prima della nascita guendalina fois non capisco bene che cosa intenda questa domanda anche prima della nascita passaggio va bene se guendalina può chiarirlo provo a rispondere Gesù ha ricevuto allora Gianni dice Gesù ha ricevuto lo spirito nel Giordano ma quando si è incarnato era già ripieno di spirito santo ok allora quindi è una buona domanda no ora secondo me il modo più chiaro per spiegare questo è distinguere diverse presenze è chiaro che Dio è sempre presente al creato Dio è onnipresente eppure quando il verbo si è incarnato nel mondo vi è una presenza nuova del verbo tutto è stato creato per mezzo di lui tutto esiste in lui nulla sussiste senza di lui l'indone Colossesi 1 eppure nell'incarnazione compare una presenza nuova del verbo eterno ecco questo lo capiamo un po' bene perché quella nuova presenza è visibile lo spirito santo anche è sempre presente Gesù è stato concepito per opera dello spirito santo lo spirito santo opera su di lui è la grazia di Dio dice le poche cose che ci dice dell'infanzia di Gesù che cresce sotto l'influsso della grazia di Dio che era su di lui e che possiamo certamente identificare con lo spirito santo l'azione dello spirito ma lo spirito che lui possiede in quanto figlio eterno non era ancora come persona presente nella sua umanità questo avviene nel battesimo che la persona dello spirito scende e consacra la sua umanità ed è lo stessa la stessa differenza che vi è con la Pentecoste nella Pentecoste già Gesù aveva dato lo spirito a discepoli aveva soffiato ricevete lo spirito santo dopo la risurrezione ecco questo si può spiegare in tanti modi anche diversi impianti teologici dei diversi evangelisti ma è certo che gli apostoli stando con Gesù avevano ricevuto lo spirito l'aveva già ma in quel momento lo ricevono in modo nuovo per quello noi nella cresima anche nel battesimo siamo battezzati in acqua e spirito siamo battezzati in acqua e spirito eppure nella cresima invochiamo proprio questo scarto diciamo come già dagli apostoli al giorno di Pentecoste ecco chiediamo la consacrazione di chi è venne cresimato in questo modo ed è la presenza personale della persona dello spirito nei nostri cuori ecco Gesù come ci sono due missioni Dio manda il figlio nell'incarnazione manda lo spirito santo a Pentecoste con una missione divina ecco una nuova presenza dello spirito santo dell'umanità che è aperta dal battesimo di Gesù e partecipata a noi tramite il sacramento della cresima l'umanità non battezzata di Gesù e poi magari a qualche tema può essere ripreso ancora la prossima volta e poi concludere con l'ultima risposta magari allora l'umanità non riesco a seguire l'umanità non battezzata come Gesù li salva di chi sono figli ok va bene questa è una importantissima domanda questa posso rispondere poi le altre se le salviamo le vediamo la prossima volta se avete visto no quella quando vi ho spiegato che Gesù è il non è solo il paradigma ma il fondamento della di di ciò che avviene in noi della nostra salvezza vi ho fatto vedere che c'è un'azione dello Spirito Santo su tutti i uomini in forza della nostra natura che è retta dall'unione di natura che abbiamo con il verbo incarnato prima dell'incarnazione c'era già un'unione prolettica in vista dell'incarnazione perché Adamo è creato in vista dell'incarnazione dopo l'incarnazione in cui Gesù si è unito in certo qual modo con ogni uomo ogni uomo è in certo qual modo unito a Gesù e in forza di questo lo Spirito Santo dirige gli uomini verso la salvezza allora dice Gaudium et Spes 22 la fine che dobbiamo ritenere così grande tante la salvezza il mistero della salvezza che ci arriva dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti gli uomini il modo di venire in contatto come Dio sa con il mistero pasquale di Cristo e quindi quello Spirito che agisce su tutti gli uomini portandoli verso il battesimo che è l'incontro col mistero pasquale di Cristo con Gesù Cristo nel suo mistero pasquale noi riteniamo che in forza di questo originario legame di natura con il verbo con il verbo incarnato lo Spirito Santo agisce in tutti perché arriviamo a una qualche unione col mistero pasquale quindi c'è una salvezza aperta a tutti ma non è un economia non c'è un'economia dello Spirito cioè una salvezza che viene dallo Spirito Santo è una salvezza che viene da Cristo no Cristo è il salvatore universale e quella salvezza universale l'universalità di Cristo è anche è anche universalità della Chiesa come presenza del mistero del mistero pasquale del corpo risorto di Cristo come si viene in contatto nel modo che Dio conosce ecco il Concilio risponde così cioè crediamo che tutti vengono salvati secondo questa economia in diversi ma secondo diciamo con una diversità di posizioni in un'unica economia ma che è sempre un'economia del figlio e in forza del figlio dello Spirito Santo che ci rende figli di Dio unendoci al suo mistero pasquale perché poi possiamo entrare nella sua gloria quindi è una questione di direzione no anche le cose di Dio non sono bianche e nere anche il mistero di Cristo non è un fatto è un evento anche la Pasqua non è un punto è un evento la nostra vita è un evento la nostra accoglienza della grazia è un evento e allora anche uno che non ha mai conosciuto Cristo può attendere può desiderare Cristo lo può sperare in lui c'è un bellissimo testo di Sant'Ireneo che dice proprio questo che che Gesù Cristo salva tutti gli uomini anche coloro che sono vissuti prima di Cristo attraverso l'attesa e la speranza della sua salvezza chi attende e spera Cristo chi cerca Dio con cuore sincero ecco è è l'azione dello spirito di Cristo in lui che lo muove è già un'accoglienza di Cristo e poi come Dio sa questa accoglienza diventa Pasquale anche un contatto col mistero Pasquale aggiungo io ma questa è una mia opinione che la morte di ogni uomo il fatto che ognuno di noi comunque muore è un potrebbe essere il collegamento universale al mistero della morte di Cristo per poi poter risorgere con lui quindi è un punto di collegamento concreto reale come lo è la nostra natura che è legata concretamente con Cristo siamo tutti anche legati a lui nella morte che lui ha realmente vissuto e questo dà a tutti i uomini un contatto col mistero Pasquale che è salvifico solo però perché Cristo c'è e perché c'è l'azione dello spirito non so se ha chiarito o confuso ancora di più comunque va bene comunque va bene così va bene bene concludiamo ringraziando Don Davide ecco ci diamo appuntamento alla prossima settimana e dopo quello che abbiamo ascoltato non possiamo concludere invocando la Trinità per cui chiudiamo questo incontro ecco invocando proprio con la preghiera del Gloria Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli Amen grazie a tutti ancora grazie a Don Davide e ci vediamo la prossima settimana buonanotte a tutti buona serata grazie